Ci troviamo nella sala stampa dell'Etna Comics insieme al nostro ospite Andrea Setmarino che abbiamo conosciuto sempre qui qualche anno fa e adesso lo ritroviamo in una versione più evoluta. Nell'arco di questi anni tanti sono stati lavori con artisti pregevoli come Angelo Maggi, Piovanne e tanti altri. In questi anni ho fatto tanto training, mi sono trasferito a Roma tre anni e mezzo fa e ho cominciato questo percorso professionale del doppiaggio. Volevo dare istituzionalità alla mia figura perché nascevo come youtuber, cosa che continuo a fare. Amo il mondo del web come creator, sto su tutti i social, però volevo proprio dare un'impronta professionale classica a me. E quindi ho studiato recitazione, edizione e grazie a Dio, devo dire, grazie anche a chi ha creduto in me, cito Walter Rivetti in primis, ho cominciato a lavorare per Netflix, Prime Video, Disney Plus e tutte le piattaforme del caso, Siri e lì e quante ce ne sono insomma. Ed è stato un percorso, ed è un percorso appagante perché chiaramente sentirsi in tv diventare quello che ascoltavi da bambino, no? La voce di un cartone piuttosto che di un film, di un programma o di una serie tv. È stata una cosa carina e lo è. Da Piano Tavola a Roma, inizialmente tu intervistavi personaggi che doppiavano i videogiochi, poi diciamo la forma evoluta, hai ampliato il tuo bagaglio culturale e soprattutto professionale perché prima iniziavi a affacciarti al mondo del doppiaggio appunto ludico e adesso invece proprio in quello cinematografico e soprattutto nelle piattaforme, come dicevi prima, Netflix, Amazon Prime. Ecco, in questi anni, intanto il presente, cosa fa oggi Andrea Marino? Oggi Andrea Marino, oltre al doppiaggio che è il lavoro principale, fa anche il social manager appunto per figure molto più importanti e rilevanti di me come Angelo Maggi, Massimo Trigiani e Andrea Piovan, soprattutto quelli che curo particolarmente. E poi questo, insomma, continuo a fare il creator, anche lo streamer di Twitch, ma sono più hobby, ma tutto concorre e va a coadiuvare quella che è l'esperienza attoriale, perché devo dire che appunto da piano tavola, più di dieci anni fa, nel 2013, non c'erano prospettive per me, allora da un piccolo paesino devi inventarti le cose, devi da casa arrivare ovunque, quindi prima delle interviste che conosci bene ai doppiatori di videogiochi, c'era questo fare web series, c'era crescere, provare a mettersi in gioco e a uccidere la timidezza. Lo apprezzo molto, nel senso, venendo da una piccola realtà, ogni passo ha un sapore particolare. Se dovessi fallire un domani, fallirei col sorriso, perché io ci sono arrivato. Voi di VTV avete creduto in me sin da subito e avete puntato sull'artista locale sperando di farlo espatriare culturalmente. Ecco, a proposito di start-up riuscita, quali sono i progetti futuri? Mi dicevi fuori onda che dal 15 ci sarà qualche chicca. Sì, penso di poterlo dire, lo do a voi in esclusiva, sono la voce dell'attore Patch May, che interpreta Craig in Ronnie Chang, International Student, quindi studenti fuori sede. È una serie di seriali, andrà in streaming lì. Sono molto fiero di questo ruolo perché ho lavorato con Gianni Gauden, persona straordinaria e, peraltro, mito delle mie infanze, la voce del Capitano Quark in Ratchet & Clank. È stato il mio primo ruolo veramente grosso, 300 righe, due turni pieni, una roba veramente impressionante. E sono felice di aver fatto questo americano stupidissimo che rappresenta i difetti dell'America, quella più repubblicana, diciamo. Quindi è una serie molto comica, scritta da questo stand-up comedian Ronnie Chang O'Chiang. E un'altra cosa futura, io non la posso dire ufficialmente a mezzo stampa, però è trapelata, i cosiddetti leak di una cosa che ho doppiato, ed è un cartone molto importante di terra nipponica. È un ruolo molto fico e spero di potervelo svelare presto. Io posso dire solo questo. Chi è il tuo doppiatore preferito, oppure il personaggio preferito straniero, perché hai fatto varie interviste a personaggi stranieri? Senza ombra di dubbio abbiamo Quinton Flynn, la voce di Raiden in Metal Gear, Rino in Final Fantasy, Axel in Kingdom Hearts. Infatti l'ho intervistato ed è un grande amico. Mi appassiono anche al lato umano. E scoprire che lui è uno straordinario essere umano conferma il tutto. Perché poi, sì, il doppiatore è italiano, ma quando tu realizzi che hai conosciuto qualcuno che lavora, cioè è la voce americana che va in tutto il mondo, tranne forse in Giappone, che poi in realtà so che è più amato lui del doppiatore giapponese, di quei personaggi magari. Sono cose che fanno piacere. Poi ti posso dire, Ruben Langdon mi piace moltissimo, è la voce di Dante di Devil May Cry. Quindi anche lui mi ispiro molto perché è un performer a 360 gradi, stuntman, voice actor, che fa anche il motion capture, il face capture, lui fa tutto. Mito. Ciao amici di BTV. Avete creduto in me sin da subito? E io vi ripagherò per questa cosa, sempre di più. Quindi grazie. E vi saluto col tono del mio personaggio innominabile che non posso ancora dire Ciao a tutti! È bellissimo essere qua! Ciao a tutti!